Amagna Cataleccia, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Volete dunque che Francesca riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Francesca, io te battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pace Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace Dio Onnipotente, Padre, Figlio e dillo Spirito Santo.